E' la quarta sezione. Il settore dei felini. Oh Cristo, a qui salta tutto. Ma cosa? Si sente male? Le hanno morso i capezzoli a sangue. Ecco perché si comportava da pazza. Non sono tanti! Aiuto! Le ho visti di animali impazziti in questi ultimi tempi, ma mai come questi. Non riesco a spiegarmelo. Mamma, mamma sono pazzi, sono tutti pazzi, mamma si è ucciderato. Se è vero quello che penso è incredibile, quasi impossibile. C'è del fenolo nel sangue. Qualunque cosa sia, per fargliela bere avrebbero dovuto metterla negli abbeveratori, capisci? Ma chi e come, soltanto un pazzo? No, secondo me non è opera di un pazzo. Però la soluzione è da cercare sicuramente nell'acqua, perché è l'unico elemento che gli animali hanno in comune. Non sarò mica impazzito. Elefante! Attenzione, attenzione, ostacoli mobili sulla pista, attenzione. Teniamolo su, dobbiamo tenerlo su per Dio! Balla troppo questa macchina! Ho paura di colpire la ragazza, non me la sento! Balla troppo questa macchina! Grazie a tutti!